Isola dei famosi Isola dei famosi, un altro naufrago si è ritirato dal gioco, ecco chi Ennesimo abbandono all'Isola dei famosi, in queste ore un concorrente ha lasciato l'Honduras, non si sa ancora per quale motivo Quinto abbandono all'Isola dei famosi 13, a poche settimane dalla fine di questa caotica edizione, video, un altro concorrente ha deciso di lasciare il reality di sua spontanea volontà Come raccontano i siti di Cancelletto Gossip in queste ore, è Cancelletto Franco Terlizzi il naufrago che si è ritirato dal gioco a poco tempo dalla sua conclusione, le pagine ufficiali del programma, però, non hanno ancora chiarito quali sono stati i motivi che hanno spinto l'ex pugile a tornare in Italia Isola dei famosi, Franco Terlizzi lascia ufficialmente il reality. Chiara Nasti, Francesco Monte, Craig Warbic e Giucas Casella, sono questi i quattro VIP che hanno scelto autonomamente di abbandonare l'Isola dei famosi dall'inizio dell'avventura fino ad oggi Che sia per motivi personali o per questioni di salute, questi personaggi non se la sono sentita di portare avanti la loro esperienza in Honduras e sono rientrati in Italia senza passare dal giudizio del pubblico Poche ore fa, a circa due giorni dall'undicesima puntata del reality, un altro concorrente si è ritirato dal gioco, questo è il gossip che sta impazzando sul web da quando sul sito ufficiale del programma è stata diffusa la notizia L'isolano che ha lasciato le calde spiagge honduregne a meno di tre settimane dalla finale, è Franco Terlizzi, l'ex pugile, dunque, è il quinto protagonista del cast che abbandona la gara sulla sopravvivenza Da quando in rete ha cominciato a circolare la voce sul ritiro del vincitore del format saranno isolani, sono tanti i commenti che sono arrivati da parte dei telespettatori, la maggior parte della gente, infatti, non si aspettava questo colpo di scena a pochi giorni dalla finalissima Come mai Franco ha fatto i bagagli ed è ritornato a casa? Cosa ha spinto l'uomo a fare un gesto così forte? Chi ha reso pubblica questa news, non ha precisato le ragioni che hanno portato all'ennesimo ritiro, facendo sapere soltanto che nei prossimi daytime dell'isola, probabilmente già in quello di lunedì 2 aprile, si capirà qualcosa in più a riguardo Gossip, Franco lascia dopo l'eliti con Amauriz, Jonathan e Bianca? Se Franco Terlizzi ha lasciato l'isola dei famosi per una sua volontà o perché vittima di un provvedimento disciplinare, non è ancora chiaro, sul web, infatti, si ipotizza che il naufrago possa essere stato squalificato dalla produzione per alcuni comportamenti eccessivi Gli ultimi giorni dell'ex pugile in Honduras, comunque, sono stati molto difficili, come ha raccontato l'inviato Stefano De Martino, video, nei daytime trasmessi recentemente su Canale 5, l'uomo ha litigato quasi con tutti i compagni d'avventura Dopo il ritorno in gioco delle sospese Rosa Perrotta e Elena Morali, sono completamente cambiati gli equilibri tra i naufraghi, Franco, in particolare, si è ritrovato duramente faccia a faccia con Amauriz Perez, Jonathan e Bianca Azzei Le vivaci discussioni che Terlizzi ha avuto nei giorni scorsi con gran parte dei componenti del gruppo, potrebbero essere il motivo scatenante del suo abbandono? Soltanto dopo il weekend pasquale, comunque, sapremo con certezza cosa è successo in Honduras di talmente grave da spingere lex pugile a ritirarsi dalla gara, oppure ad essere squalificato dalla produzione Grazie a tutti